passare a metterci tutti quanti insieme, di là delle divisioni, dei problemi e delle nostre vite così frenetiche che ci stanno portando a dividerci un po', allora facciamo un'esperienza di grazia, ecco perché vi dico grazie per essere stati qui per me queste sono esperienze spirituali a tutti gli effetti, anche se a volte si ha difficoltà a dare questo nome perché lo si usa per, fa tanto per alcune esperienze, mentre invece lo è stata e quindi grazie e infatti dopo ho chiesto a Mario un contatto perché mi piacerebbe riavervi in un'altra occasione perché il coinvolgimento per me è importante, quindi grazie davvero per essere stati qui